A mezzanotte stoppa la musica, concessa fino a luna, al venerdì, sabato e per festivi. Per la Lega Fanno, il regolamento di polizia urbana è uno sgarro ai locali del centro storico. Piano interne a Fanno, il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione e chiede come mai la Giunta non abbia coinvolto l'ARPAM per misurare i campi elettromagnetici. Difesa della costa, l'assessore Cristian Fanesi annuncia un nuovo intervento dal torrente Arzilla al Posto Seiore. A Pesaro la terza giornata della cultura artigiana, l'appuntamento targato con Partigianato in programma il 19 marzo al Teatro Rossini. Con i libri nel cuore è presentata la nuova immagine della prossima edizione di Passaggi Festival, in programma a Fanno dal 26 al 30 giugno. La giornata internazionale della donna a Fanno si celebra in teatro con la presentazione della nuova ristampa della Maria Risorta. La sera appuntamento con Storie d'amore e di mare, uno spettacolo sull'opera di Grimaldi. 30 trasferte all'anno, oltre 500 concerti e un intenso programma per il coro polifonico manatestiano, una tra le formazioni più significative nel panorama culturale della città di Fanno. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'intervista che abbiamo realizzato a Gianluca Ilari della Lega Fanno che contesta la disciplina prevista dal regolamento di Polizia Urbana per l'inquinamento acustico. Secondo il partito queste norme vanno a discapito anche di chi ha sempre rispettato le regole, ma oltre al danno, ha detto Ilari, c'è anche la beffa. Sentiamo. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono state apportate dell'integrazione al regolamento che disciplina anche l'inquinamento acustico. Che cosa prevede l'articolo in questione? L'articolo in questione prevedono che il centro-sinistra ha deciso di spegnere la musica ai locali del centro storico. Questa modifica al regolamento prevede che durante i giorni feriali la musica debba essere spenta, ripetiamo, e non diminuita, ma spenta alle 24, mentre invece durante i giorni festivi a luna di notte. Noi crediamo che questo documento sia un documento che non sta né in cielo né in terra, però il ragionamento parte da lontano perché non bisogna fare dell'emagogia. Il Comitato del centro storico ha legittimamente e correttamente avanzato delle richieste poiché il volume di alcuni locali era effettivamente troppo elevato. Quindi nasce un pochino un tantam sulle responsabilità, chi deve controllare, eccetera. E ARPAM, quindi l'autorità che deve effettuare i controlli, non ha sempre a disposizione il tecnico pronto ogni piesso spinto che si debba andare a fare la valutazione e la misurazione in loco. Quindi di fatto spesso queste rimostranze cadevano in un nulla di fatto. L'amministrazione comunale però durante dieci anni non ha fatto nulla e la normativa in questione prevede proprio che si possano istruire delle figure, formarle, autorizzarle al controllo del volume che si percepisce al di fuori dei locali. Quindi cosa succede? Non avendo fatto nulla in questi dieci anni, l'unico modo per andare incontro alle indicazioni dei residenti è stato quello di decidere di spegnere la musica a Fano. Capite che in una città che si proietta in un futuro ricettivo, che vuole fare comunque sia anche del suo centro storico un punto di aggregazione, questo è un pochino fuori da ogni grazia del Signore e diciamo che non va di sicuro in un'idea di buonsenso. Ecco però si precisa anche che questi locali dovrebbero dotarsi della strumentazione. Sì, dopo il danno anche la beffa perché non solo non si può demandare a qualcun altro di fare queste rilevazioni ma addirittura chi volesse continuare dopo le 24 fino al venerdì o a luna di notte nei giorni festivi deve dotarsi della strumentazione che servirebbe a qualcun altro per fargli la multa. Cioè a dire devono dotarsi degli strumenti per essere sicuri di rimanere all'interno dei limiti. Attenzione, non stiamo parlando della musica percepita all'esterno del locale ma anche all'interno. Quindi voi pensate a un semplice bar, a una semplice attività che a mezzanotte e 10 il giovedì sera vuole avere la musica accesa perché ha piacere di far ascoltare un po' di buona e sana musica ai propri ospiti bene, la deve spegnere. Questo atteggiamento chiaramente poi mortifica ancora di più chi in tutti questi anni ha sempre rispettato le regole perché ci sono di 100 locali, 99 sono sempre stati in regola, bene oggi questi 99 locali devono spegnere la musica invece di poter così poter continuare a ricevere i propri ospiti anche in orari un pochino più nottambuli se così si può dire abbassando la musica. Da oggi la dobbiamo spegnere. Ci teniamo però a dire che si capiscono benissimo le motivazioni dei residenti del centro tant'è che la prossima amministrazione comunale dovrà rivedere assolutamente questo regolamento partire da subito dotando l'organo competente, quindi in questo caso potrebbe essere anche la polizia municipale delle figure di cui parlavamo prima formandole e soprattutto mettendo immediatamente a bilancio i fondi che servono per poterlo fare. Invece il Movimento 5 Stelle di Fano è intervenuto sul piano antenne mediante un'interrogazione. I consiglieri chiedono alla Giunta Seri come mai al posto di una società privata non sia stata coinvolta l'ARPAM che è l'ente preposto ad esprimere pareri e eseguire misurazioni di campi elettromagnetici. Dopo aver dato un incarico alla società Polab, l'amministrazione comunale di Fano ha iniziato un percorso di condivisione con la città per la redazione del nuovo piano antenne. Il Movimento 5 Stelle che cosa chiede alla Giunta? Noi vogliamo denunciare una cosa molto grave secondo noi, nel senso che il Comune di Fano purtroppo per vari motivi, ricorsi altari eccetera, si è trovato scoperto senza un piano antenne e quando purtroppo non c'è un piano antenne i gestori di telefonia possono installarle praticamente dove vogliono, qui mi viene in mente una vecchia vignetta di mio padre ma a parte questo possono davvero fare come vogliono e il Comune di Fano non ha potere in mano decisionale perché non ha un piano antenne diciamo attuale. In passato cosa si era fatto? Anzi per 20 anni si era fatto in collaborazione con ARPAM che è l'istituto preposto a fare queste operazioni, annualmente veniva revisionato e annualmente veniva anche chiesto da ARPAM ai Comuni di sentire con i gestori qual era il loro sviluppo delle reti per poter concordare un attimino lo sviluppo territoriale in maniera armonica e invece questo dal 2019 in avanti non è più successo e ci siamo ritrovati che a un certo punto spuntano Tena Alfianile, spuntano Altra Carignano e giustamente i cittadini sono preoccupati. A quel punto il Comune di Fano cosa doveva fare? Assolutamente rivolgersi ad ARPAM che è l'istituto preposto appunto per fare questo tipo di rilevazione e questo tipo di piano che lo deve fare come compito istituzionale, invece il Comune di Fano ha dato un incarico a un privato circa 100.000 euro se non ricordiamo male per il lavoro che hanno svolto. Noi non contestiamo ovviamente il lavoro dei professionisti, ci mancherebbe altro ma contestiamo il fatto che il Comune di Fano si è trovato scoperto senza un piano antenne e non si è rivolto ad ARPAM. In conclusione noi vorremmo sapere in Consiglio Comunale per quale motivo il Comune di Fano non si è rivolto ad ARPAM che è l'organo proposto a fare questo tipo di rilevazioni che tra l'altro sono le uniche che sono realmente riconosciute dalla legge. Per cui noi vogliamo sapere per quale motivo ci sono stati spesi 100.000 euro di tutti quanti noi cittadini per rivolgersi a un privato che sicuramente ha fatto un buon lavoro però c'è ARPAM che lo fa come compito istituzionale. Oggi ANAS ha reperto al traffico in modalità provvisoria la Galleria Cagulino sulla strada statale 73 bis a Urbino. Il tunnel era rimasto chiuso in seguito all'incidente di fine dicembre per i danni causati dall'incendio che ne era seguito. La circolazione è consentita su una corsia nella sola direzione Fermignano per 3 km in corrispondenza del tunnel mentre il traffico in direzione Urbino continua a transitare sul vecchio tracciato adiacente. Per consentirne la riapertura nelle more dei lavori di rifacimento degli impianti danneggiati ANAS ha realizzato un impianto di illuminazione provvisorio e ha eseguito il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura delle pareti interne. Il comune di Fano e la regione Marche hanno firmato la convenzione per un nuovo intervento di difesa della costa dal torrente Arzilla al Fosso Segiore. Ce ne parla il vice sindaco Cristian Fanisi. Il comune di Fano e la regione Marche hanno firmato la settimana scorsa una convenzione per la progettazione del paraggio di difesa del mare a nord del torrente Arzilla, quindi Fano Nord, per un importo complessivo di 4 milioni e 400 mila euro per il primo stralcio che vedrà appunto la sistemazione delle scogliere anche a nord di Fano nella zona tra Arzilla e Fosso Segiore. Questo è un progetto molto importante di cui inizierà la progettazione appunto il provveditorato opere pubbliche di Ancona e che dovrà proteggere gli investimenti privati soprattutto degli operatori balneari ma anche le infrastrutture come la pista ciclabile e le ferrovie. Quindi questi sono investimenti molto importanti per la nostra comunità. Il progetto verrà redatto dal provveditorato opere pubbliche che già ha fatto, sta seguendo i lavori a Metauriglia, lavori che presto inizieranno, riprenderanno per concludere dunque la difesa della costa a sud del fiume Metauro ed arrivare da Metauriglia a Ponte Sasso per, anzi Torrette, per difendere la costa anche lì. Prosegue la campagna di ascolto voluta dal candidato sindaco della coalizione di centrodestra Luca Serfilippi. Questa sera l'appuntamento sarà dedicato alle associazioni sportive. Martedì 5 marzo sono iniziati gli incontri con le associazioni del territorio in vista delle elezioni amministrative. Serfilippi, qual è l'obiettivo? L'obiettivo innanzitutto è ascoltare il pensiero delle associazioni di categoria e quindi idee dei loro associati, ma anche delle associazioni, associazioni culturali. Ieri abbiamo iniziato nella sala del Poderino, questa sera alle ore 21 ci sarà l'incontro con le associazioni sportive e domani sempre alle ore 21 con le associazioni sociali. Oltre questo, quindi oltre all'associazione di categoria per quanto riguarda le imprese, le piccole e medie imprese, quindi tutte le varie attività economiche, ci sarà anche l'incontro nei quartieri, quindi i quartieri tutti dalle periferie, durante il giorno quando avrò occasione, sto registrando un grandissimo calore della gente che mi ferma non solo per strada ma quando entro nei bar, quindi è anche piacevole questo confronto molto tranquillo, molto sereno, per ascoltare le esigenze della città, perché per formare il programma elettorale come coalizione per Fano abbiamo deciso di fare questo tour di ascolto. L'ascolto per noi, la condivisione delle scelte è una delle priorità dei pilastri del nostro programma, quindi devo dire che c'è stata per ora una grande partecipazione, una grande voglia di dire la propria, di dare un contributo di idea al prossimo sindaco, adesso in questo caso ancora candidato sindaco, quindi il clima è molto positivo. Ho registrato, diciamo, una, come posso dire, difficoltà nel parlare con l'amministrazione attuale, quindi è chiaro che il cambio di passo che ci deve essere per la prossima amministrazione è quello di condividere a priori le scelte che riguardano dagli eventi a tutte le strategie, dai lavori pubblici all'urbanistica per quanto riguarda appunto le politiche cittadine e poi scegliere, decidere e fare le cose. Si svolgerà a Pesaro, al Teatro Rossini, la terza giornata della cultura artigiana, un appuntamento nazionale promosso da Confartigianato. Sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Lonigro. Si svolgerà a Pesaro, nel meraviglioso Teatro Rossini, la terza giornata della cultura artigiana. L'evento, presentato in conferenza stampa nel Palazzo del Comune di Pesaro, è intitolato Intelligenza artigiana, valore per l'Italia ed è in programma per il prossimo martedì 19 marzo. Giornata dedicata a San Giuseppe per l'artigianalità, vissuta in questo caso però con un occhio molto attento al contemporaneo e al futuro, a partire dal titolo dell'intelligenza artigiana che ovviamente vuole dialogare con le sfide dell'intelligenza artificiale, non come paura ma come elemento di potenzialità di un lavoro che viene fatto sulla base della qualità del sapere artigiano in una provincia come la nostra in cui è altissima, oltre al 90% la parte di produzione che viene dal mondo artigiano, in una regione che è fortemente artigiana e quindi un focus importante che vivrà in tutta la giornata del Teatro Rossini con grandi ospiti che ci permetteranno di ragionare, dialogare e proiettare in avanti queste sfide. È un'emozione, voglio ospitare un evento nazionale qui a Pesaro per noi che tutti i giorni viviamo il contesto delle imprese, delle persone e quindi è sicuramente un valore aggiunto, non a caso è un valore artigiano con cui trasmettiamo questo evento il concetto dell'intelligenza come noi abbiamo rinominato nella campagna di tesseramento 2024, intelligenza artigiana. Un'occasione per ribadire che l'intelligenza artigiana espressa dalle piccole imprese con la loro creatività rappresenta il punto di forza del Made in Italy. Tanti gli ospiti che parteciperanno all'iniziativa in programma un confronto sul ruolo delle piccole imprese ma anche sul valore artigiano in rapporto con l'intelligenza artificiale. È un evento a livello nazionale, quindi ci sono i vertici della confronto nazionale in cui vogliamo tentare di parlare con degli ospiti veramente autorevoli dal punto di vista proprio sia della parte scientifica per quanto riguarda tutto quello che è lo sviluppo del mondo imprenditoriale a partire dall'intelligenza artificiale ma non solo i temi dell'intelligenza artificiale, vogliamo trattare anche come impatta l'intelligenza artificiale sul mondo artigiano. Noi sappiamo che abbiamo delle imprese che si sono evolute in questi anni in maniera eccezionale ma dobbiamo fare in modo che non siano travolte da un evento che potrebbe non essere governato. Ci sarà in collegamento Fagin dalla California che è, come sapete, già stato qui a Pesaro e è il primo che ha studiato anche a fondo quelle che potevano essere le implicazioni scientifiche dello strumento quantistico del computer proprio sui metodi di ragionamento anche umani delle persone quindi ci sarà in collegamento Fagin, ci sarà poi un fisico musicista che è appunto Vincenzo Schettini che è grande comunicatore anche per i giovani quindi è un evento che servirà per fare il punto un po' della situazione della nostra imprenditoria soprattutto della piccola imprenditoria ma servirà anche per capire dove si deve andare per il futuro. Noi preferiamo parlare di intelligenza artigiana che comunque compensa ed è complementare all'intelligenza artificiale sono sicuramente delle risorse che si possono coniugare e sicuramente l'intelligenza artigiana è quella che ci fa andare avanti tutti i giorni, produrre nuove idee. Torniamo a Fano perché questa mattina è stata presentata la nuova immagine che accompagnerà la prossima edizione di Passaggi Festival visto il tema all'errore e l'artificio i grafici Zacone Guerra hanno rappresentato un robot con un cuore di libri, vediamo. Presentazione e letture di libri, approfondimenti con gli autori, laboratori per bambini e tante altre iniziative sta per tornare dal 26 al 30 giugno la dodicesima edizione di Passaggi Festival il festival della saggistica che coinvolgerà il centro storico e la zona mare di Fano tema di quest'anno l'errore e l'artificio ovvero un collegamento all'intelligenza artificiale. Dal 26 al 30 giugno saranno 5 giorni pieni di libri, possiamo dire libri ma anche altro laboratori bambini, conversazioni scientifiche, mostre, graphic novel ma ovviamente il cuore di Passaggi è quello dei libri. Libri ovunque, al Pincio, in Piazza 20 Settembre, Chiostro delle Benedettine, Chiesa di San Francesco Bonbonne del Lido, Bagni Elsa di Fosso Segiore e poi laboratori e libri in Mediateca Laboratori a Bagni Torrette, quindi davvero un festival esteso. Non dimentichiamo poi la nuova sede di Passaggi che sarà inaugurata appositamente Giardino Radicioni, quindi siamo davanti più o meno alla chiesa, alla Basilica di San Paterniano dove ospiteremo la rassegna dedicata ai fumetti e alle graphic novel. Sarà un'edizione più che mai ricca di libri, in 5 giorni presenteremo più di 100 libri e mi auguro che il pubblico risponda positivamente a questa offerta della dodicesima edizione. La conferenza di oggi è stata l'occasione per presentare la nuova immagine curata quest'anno dai creativi e grafici Andrea Zaccone e Luca Guerra, un manifesto semplice ed impatto dove l'intelligenza artificiale viene rappresentata da un robot giocattolo vintage. Al suo interno invece vengono inseriti dei libri. L'immagine di quest'anno grazie al tema che ci è stato un po' comunicato è un piccolo robot giocattolo che all'interno nella sua pancia ha tanti libri questi libri che fanno il suo cuore, diciamo che comunque sono libri scritti dall'uomo e quindi il robot comunque, anche se è un'intelligenza artificiale, è un robot che chiaramente funziona grazie ai suoi libri che all'interno lo alimentano con la cultura. Il libro è scritto dall'uomo e viene trasmesso alla macchina, la macchina lo elabora ma senza il libro scritto dall'uomo la macchina non elabora niente. L'intelligenza artificiale visualizzata con un robot che oggi è in grado di generare oltre a delle immagini anche dei testi molto elaborati e probabilmente un domani potrà generare anche dei libri. Il servizio era di Filippo Pucci. Parte ufficialmente giovedì 7 marzo Circonomia al Festival dell'Economia Circolare della Transizione Ecologica al via con grandi ospiti tra artisti, giornalisti, attivisti, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e studenti. Il programma di domani inizia alle 8.30 alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone con Aria Fresca Ultima Moda e si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che incontrano e dialogano con esperti sull'industria della moda. A seguire la presentazione del corso di laurea in Ingegneria per la Sostenibilità Industriale e laurea magistrale in Green Industrial Engineering dell'Università Politecnica delle Marche. Alle ore 17 si terrà un incontro a cura del Circolo Culturale Bianchini intitolato Perché la Vernice? Dialogo con un imbrattatore ecologista. Tra gli ospiti più attesi l'architetto e designer Mario Cucinella per il talk da Vitruvio alla rigenerazione urbana, l'architettura al tempo della crisi ecologica. L'appuntamento è per le ore 21 sempre al Gonfalone. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito e in maggiori dettagli li troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it Invece l'8 marzo, giornata internazionale della donna, a Fano sono previsti due appuntamenti al Teatro della Fortuna. Queste iniziative rappresentano un'anteprima della settima edizione della rassegna impronte femminili. L'8 marzo si festeggia la festa della donna. Assessore, quali sono gli appuntamenti che il Comune di Fano ha organizzato in occasione di questa giornata? L'8 di marzo è un evento che abbiamo avuto il desiderio di interpretare nel miglior modo possibile, cercando comunque di approfondire una ricerca su un tema identitario della città, che ruota intorno alla marineria e a un'opera importante, che è quella di Giulio Grimardi, La Maria Risorta, un'opera verista. Poi due appuntamenti importanti, quello della presentazione della nuova ristampa dell'opera, introvabile, a chi volesse acquistarla, ma anche a chi la volesse prendere in prestito, perché insomma non era più disponibile questa coppia, per cui grazie diciamo a un mecenato, un editore, che ha avuto voglia di investire in questa ristampa curata da Francesca Tombari, l'8 di marzo ci sarà la possibilità appunto di vedere e poter avere quest'opera. La sera dell'8 di marzo invece saremo a teatro, nuovamente prima l'appuntamento della presentazione del libro nel foyer, e poi la sera alle 21 ci sarà la messa in scena di una riscrittura della Maria Risorta, a cura di professor Franchini e Carlo Simoni, che accompagnati dalla banda e anche dall'interpretazione del coro polifonico malatestiano, metteranno in scena quest'opera, appunto sottolineando quello che è il protagonismo delle donne nella marineria fanese e nell'opera di Giulio Grimardi. Tutti gli eventi si terranno al Teatro della Fortuna, al foyer è 18.30, l'evento è ingresso gratuito, invece la sera lo spettacolo è appunto con ingresso a pagamento e sarà possibile appunto acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro della Fortuna e voglio ricordare che la Fondazione Teatro è partner di questi progetti. E di Maria Risorta ne riparleremo anche durante il prossimo servizio per la nostra rubrica Arte e Cultura. Siamo andati a curiosare durante le prove del coro polifonico malatestiano e a conoscere i nuovi progetti in vista della Settimana della Cultura che coinvolgerà Fano fino al 10 marzo. Cristiana Guerra. Nato nel lontano 1968, il coro polifonico malatestiano ha sin dalla sua fondazione incentivato la musica polifonica sacra e profana, andando ad abbracciare un vastissimo repertorio di 5 secoli di storia. 30 trasferti all'estero e circa 500 concerti. Sono solo alcuni dei numeri raggiunti, grazie alla promozione delle attività di carattere culturale e musicale. Quella del coro polifonico è una lunga storia iniziata 56 anni fa. Sì, indubbiamente è una lunghissima storia nata nel 68. Una storia di amicizia, di coralità. Una storia in cui la musica ha costituito un ponte per dialogare con cori di altre nazioni. La musica corale è indubbiamente una grande manifestazione che consente proprio alle persone di vivere insieme un'esperienza molto intensa. Da questo punto di vista il coro polifonico è riuscito in effetti nella città di Fano a portare tanta coralità perché dal 1974 ha dato vita all'incontro internazionale polifonico città di Fano. In 50 anni ha portato a Fano tantissimi cori dell'est europeo, poi esperienze che sono arrivate dai paesi della Scandinavia, dai paesi nordici. Diciamo che è stata una grandissima avventura che spero continui nel tempo con quei bei risultati che finora ho ottenuto. Il coro polifonico è stato un bel ambasciatore. Per Pesaro Capitale della Cultura invece avete dei progetti? Beh, ci abbiamo sì, dei progetti a breve scadenza perché il giorno 8 di marzo porteremo al Teatro della Fortuna storie d'amore di mare ispirata al romanzo Maria Risorta con l'attore Carlo Simoni, coro e voce narrante. Poi un'altra esperienza importantissima sarà per noi nel mese successivo, in aprile, quando porteremo in scena al Teatro Rossini insieme all'orchestra della Francesca Perrotta, l'orchestra Olimpia, Letcher from Abigail, la lettera di Abigail, che è un testo del 1776 in cui questa signora americana si rivolge al marito, John Adams, e gli raccomanda che nell'elaborazione della Costituzione degli Stati Uniti si tenga presente la parità, i due spettacoli che stiamo preparando in collaborazione con il coro Gaudium Vocis di Terre Roversche, ugualmente diretto dal nostro maestro Francesco Santini. E poi continua la nostra programmazione per la 51esma edizione dell'incontro internazionale polifonico che si svolgerà tra la fine di agosto e gli inizi di settembre. Francesco, come si fa per entrare a far parte del coro polifonico malatestiano? Beh, è molto semplice, basta avere voglia di cantare, un pochino di passione e rintracciarci nel sito web. È molto semplice, il coro polifonico malatestiano e siamo sempre aperti, il coro ha un ricambio abbastanza continuo di persone che, soprattutto ragazzi ultimamente, che hanno desiderio di cantare e noi siamo molto accoglienti. Federica, lei da quanti anni è nel coro polifonico malatestiano? Ho iniziato per amicizia, quindi avevo le mie amiche che cantavano nel coro. Mi si è aperto qui un mondo perché ho scoperto che la mia voce insieme alle altre voci facevano un'armonia, sentire proprio come la gruppalità crea qualcosa di altro, qualcosa che è inesprimibile. Siamo tutti, devo dire, veramente molto uniti. Questa è un'esperienza di relazione, di socialità, ma anche culturale, perché questa esperienza mi dà l'opportunità di partecipare a diversi progetti e attività didattiche anche in tutto il mondo. Ci ha portato a Gandia, all'Expo, anche in varie parti d'Italia. Lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Pergola, Simona Guidarelli. Durante la diretta, che avrà inizio alle ore 19, potrete intervenire telefonando lo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio al 338 49 68 250. Tra poco invece trasmetteremo uno speciale sulla terza giornata della cultura artigiana promossa da Confartigianati e Imprese. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e vi do appuntamento domani mattina alle 7 con Massimo Foghetti per la nostra segna stampa in diretta. Buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS